ma ci vediamo ma ci vediamo a pranzo da shikoko pieni con l'SLK che poi ti spiego un po di quelle cose ci vediamo la tanto sei venuto diverse volte come vedo camminando dal metro e 91 a parcheggiato parcheggiato scarone a parcheggiato no secondo me andava a caporetto non c'era la situazione leggero passo carrabile diciamo no lo scarone è parcheggiato secondo me sto male lui può tutto lui può pure parcheggiare così questo è il parcheggio dello scarone nazionale levate questa rampa che è irregolare io la vita tutta la vita bella per te